Tantana Menino Revisione Scara Ellen Revisione 300 g di zuccheri, Raffaele. 300 g di zuccheri. 150 g di sciroppo di glucosio. 60 g di sciroppo di glucosio. L'osciloppo di glucosio deve avere un D.E. particolare. Conoscono cos'è il D.E.? Allora, il dextrosio equivalente vuol dire che all'interno di quella di 100 grammi di prodotto circa il 60% è dextrosio. Vuol dire che successivamente abbiamo amidi. E' un altro ceneri. E' altri solidi. In sostanze sucre. 150 grammi di panna. 35%. Scusa Raffa, scusa, 250 grammi. Ah, 250 grammi. Però qui in Polonia c'è il 30% o il 36%. 36%. E' un po' di vaniglia. Una bacca di vaniglia. 3 grammi di sale. Procedimento è cucinare a secco lo zucchero. Procedura per rubini attacchi carmel c'è... Aspetta, aspetta, aspetta. Procedura per rubini attacchi carmel c'è... C'è un po' di vaniglia e zucchero. C'è un po' di vaniglia, non è zucchero. C'è un po' di vaniglia, non è zucchero. A secco. C'è un po' di vaniglia. 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 Questo è il final. Final Bricks. 78... Parla in italiano. Scusa, non ho capito. Allora, tu hai il risultato finale. 78-80 Bricks. Se è più alto, è troppo denso. Se è troppo basso, fermenta. Ah. Allora... Non è un gioco, eh. Allora... Non è un gioco, eh. Allora... C'è un po' di vaniglia. Quando è troppo alto? Quando è troppo alto... C'è troppo alto oltre i 76-75. Ah. C'è un 76-75. Vuol dire che se io ho 75 Bricks... Per arrivare a 100 me ne mancano 25. E 25 è acqua. E 25 è svoda. La maggior parte delle persone sanno che il Bricks è il residuo zuccherino di un prodotto. E non è giusto questo. Perché sono tutti solidi di un prodotto. Sono tutti solidi. Stati. 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 Perciò... Succherino. Proteine. Succherino. Succherino. Proteine. Sali minerali. Suli minerali. Suli minerali. Vitamine. Enzimi. Qualsiasi cosa fa solido. Tutta. Tutta la massa. Tutta la massa. Tutta la massa. Ora facciamo una essenza infinita. Ora facciamo... Cosa facciamo adesso? Questo. Siroppo d'aceto. Il burro di cacao serve per dare cremosità e non dare zucchero. Il burro di cacao serve per dare cremosità e non dare zucchero. Facciamo come una ganache a tutti gli effetti. Portiamo a bollore la panna. Bolle, mescoliamo, raffreddiamo. Se il burro di cacao possiamo evitare di far bollire la panna. Se il burro di cacao è già fuso. Se il burro di cacao non è possibile raffreddare la panna. L'importante su questa crema è avere uno sciroppo d'acero grado C. Per essere buono, devono avere uno sciroppo d'acero molto ambrato. Il grado C. In base al grado ci sono tre tipi di sciroppo. Grado A, B e C. La B è la via di mezzo tra quella dorata e questa. La B è la via di mezzo tra quella dorata e questa. C è quella che ha più gusto, più ambrata ed è leggermente più solida. Con un solido maggiore. La B è la via di mezzo. 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 Perciò è semplice. Versiamo dentro la gelatina qui già ammorbidita. La c'è di mezzo. 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 La c'è di mezzo di vaniglia. La c'è di mezzo. La c'è di mezzo di cioccolato. La gelatina. Lo possiamo fare anche con grandi blender. Emulsionare tutto quando sono quantità enorme. Lo sembrano di mezzo. Poi non solo sdugare la ciotola. La ciotola non lo so. Ma usiamo come blender. Ok. Quasi pronta la panna, Raff. La scelta del burro di cacao mi serve per dare poca dolcezza, perchè questo è molto dolce. Il burro di cacao vuole usare il maschio di cacao, perché ci sono molto sottosci, perché ci sono i siropi cronovici e molto sottosci. E evitare, perchè io potrei mettere anche al posto di questo cioccolato bianco, ma il cioccolato bianco ha dello zucchero aggiunto. Cioccolato bianco, ma zucchero adatto. E questo mi darà una cremosità veramente buona. Versiamo a filo poco per volta. Diamo la nostra smettana a Goronza, un po' troppo. Non è vero, tutto insieme. Perchè questo vuol dire rompere le regole. Perchè alla fine quello che a me conta è il risultato finale. Perchè il risultato finale è ok, per me è perfetto. Perchè il risultato finale è ok, significa che tutto è bene. Se vado a mettere poco per volta c'è più mano d'opera qui, Raffaele. Invece in questo modo qui, tutto insieme, io sono pronto. Perchè la metoda mettiamo il risultato e ben giocatore. Attendo che si fonda il burro di cacao, vado al blender. Finito. Il prodotto è finito. Posso mescolare, appena appena un po' bello. Qui c'è una cosa da fare attenzione, non so se vedono dalle camere. Il grasso è più leggero dell'acqua. Qualsiasi cosa fanno dove c'è burro di cacao. Quando c'è il risultato, se c'è il massimo cacao, vado? Devono raggiungere una temperatura. Allora, questo adesso è troppo caldo, Raffaele. Per questo che fa così. Ora è molto caldo, per questo che fa così. Se io vado al blender, ugualmente salirà su il burro di cacao. Quindi, se io vado a blender, ugualmente salirà su il burro di cacao. Allora, la mettono in frigo. Perché loro sono sicuri che hanno fatto un bel lavoro. Durante la notte il burro di cacao, prima che cristallizza ancora sale su. Vado a blender, la mettono in frigo. Domani troveranno questa parte croccante, dura, perché è burro di cacao. Allora, la mettono in frigo. E questa parte lucida, che sarebbe lo scirocco. Non è troppo d'acido, perché è più pesante. Allora, la mettono in frigo, la mettono in frigo. Vuol dire che non è la ricetta sbagliata, ma il metodo sbagliato. Allora, non è la ricetta sbagliata, ma il metodo sbagliato. La temperatura? La temperatura. E il 75% degli errori che facciamo ogni giorno. Il 70% degli errori che facciamo ogni giorno. Perché uno aggiunge, fa, boh, non vede, controlla, tutto dentro, e via. Non è così. Perché uno aggiunge, fa, non vede, controlla, tutto dentro, e via. Per essere perfetto. E non ci si butta in un modo che uno non sa nemmeno cosa succede. Deve capire già dove arriva. Allora, questo qua, Raffaele, è separato. Come vedete, tutto non è in un po' di raffaele. Non è tutto. Ok. Cosa abbiamo fatto ieri per accelerare i tempi? Ho il battitore. Cosa abbiamo fatto ieri per accelerare i tempi? Cosa abbiamo fatto ieri per raffaele? Allora, mettiamo il rischio di tutto. Allora, mettiamo il rischio di tutto. Quando siete intorno ai 30 gradi, questo è stabile. Possiamo emulsionarlo, il grasso va in sé. Siamo a posto. A 30 gradi tutto si? Sì, perché a 36 gradi fonda il burro di cacao. 36-37. Quindi ho 56 stop, 57 stop e raffaele il cacao. Le glasse che hanno sul ricettario sono a base di burro di cacao. Tutte le glasse che vi faccio nel vostro... Come si chiama? Il ricettario, il materiale. Tutte le scelte. Come ho detto? A base di burro di cacao. Tutte le glasse sono a base di... Butter cacao. Tutte le cioccolate. Masso cacao. Allora, vi faccio vedere come il grasso... Sembra che si emulsiona, Raffaele. Ma poi torna su. Questo è solo un discorso di troppo caldo. Questo è solo un grasse. Ganache, questi cremosi qua. La panna cotta che faremo. Cremosi, panna cotta, è tutto lo stesso principio. Questo è basato su questo sale. Messo in frigo, perciò ben emulsionato. Nessuna separazione. Messo in frigo. Scusami Raffaele. Otteniamo questo prodotto qua. Allora, chiedi mettere le ducche. 50 stopni di mesciare. Tataratà. Dove stai mettere? Oclaschi della niego. Grazie. Grazie. Adesso faccio un esempio qui, Raffaele. Mettiamo il nostro cioccolato sulla teglia. Mettiamo il cioccolato a 130 gradi. Mettiamo la doppiazza a 130 stopni. Ogni 10 minuti mescoliamo. Avviene la cosiddetta reazione di Maillard. Maillard, ok. Perchè abbiamo le proteine e quando tu fai il pane, c'è la crosta del pane che diventa colorata e c'è il profumo. Quando tu fai del pane, Raffaele? Chiedi miro, bim e cleb. Vuol dire che è come se noi facessimo del cioccolato caramellato. Ah, miro, bim e me, cioccolato carmelisovane. E vuol dire che quando io vado ad aggiungerci, a toglierlo, perciò io posso avere 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, come il caramello a secco. Avere un cioccolato che sa di caramello. Perchè, sorry, abbiamo proteine dentro e zuccheri e lattosia. Un po' prosto. Ora, se viense tam, vi mesciamme doppie carnici, ora sbargi un caramellizuje, c'è, eh? E questo farà sì che abbiamo un prodotto con un gusto di caramello finale. Inoltre, vediamo i prodotti con un gusto di caramello finale. Mamma, abbiamo il cioccolato rosso. Che temperatura? 40 gradi, così facciamo quel discorso là, senza andare oltre. Ah, ora dobbiamo esperimenti a 14 stopni. Il cioccolato rosso e il cioccolato a 14 stopni, più o meno. Ci abbiamo anche dell'acqua qui, no? Qua. L'acqua serve ad avere un prodotto più fresco al palato. Adesso dobbiamo aggiungere l'acqua, e l'acqua dà una consistenza. L'arancio, Raffaele. Adesso dobbiamo aggiungere un po' di arancio. La gelatina è già fusa. La gelatina è già riuscita. Ed infine la parte del latte. E poi, il latte. Cosa vuol dire che qui il latte io posso sostituirlo con del caffè? E per esempio, il latte possiamo aggiungere il latte e anche la cava. È interessante, con del tè. Un infuso di tè. Albo erbata. Possiamo aggiungere il latte. Ed infine la panna semimontata. E poi, la ciotola è già riuscita. Quindi, molto cava, quindi, abbiamo anche la cava, anche la cava. Albo erbata. Albo che cos'è? Allora, mescoliamo delicatamente, Raff. E lo verseremo nel nostro dolce che lo faremo a forma di tronchetto. Non faremo quello che vedono. Allora, qui faremo un tronchetto. Possiamo farlo tondo, buon raro. Non ci ha mai stato, non ci ha mai stato. Non ci ha mai stato. Lo facciamo senza mestolo. Allora, abbiamo la metoda primitiva. Se una cosa non c'è... Quando non c'è, non serve. Quando non c'è, non serve. Se una cosa non c'è, non serve. Allora... Uno. Allora... Ti faccio i passaggi, ma per loro è più semplice. Prendo di qua il prodotto, Raffaele. Sì, sì. Adesso la terra sveglia. Allora, la crema allo sciroppo d'acero. Io l'ho già stesa. Che è questa qui? La stessa. Allora... Ah, ok. Allora... Allora, il mio nome nasce il biscuit. Il biscuit è un biscuit molto soffice. Che è quello che hanno lì come ricetta. È molto interessante, perché è molto facile da fare. Tu... Ma c'è la ricettura di rubini di biscuit. È molto facile. 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 Ok. Versiamo dentro. Con il gelatore. Diamo la scirocco e poi la zambra giarchi. Adesso lo tiriamo fuori. Ok? Lo vado a tirare fuori io? Poi porto via questo, Raff. Uno, due. E' un minuto. Ora sveglia il bosco. Anche questo. Ok. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Allora, la gelatina la fondiamo? Ok? La glassa la stessa cosa. La glassa è come la prima, c'è burro di cacao. Attenzione. Non fallo separare. Taka glassa sotto è la stessa fine con il frutti, te trzeba uvasciare la temperatura. Tiewa, ci sarà tutto sui e le temperature. Perciò è molto gelatinosa lei, eh? Se rivedete, è molto... garetolata, non? Allora, sformiamo il tronchetto, Raff. Allora mamme nasce, nasce produttore con sonne, la glassa è sempre molto, viene utilizzata, non è molto calda Raffaele, possiamo fare anche due passaggi. Sotto la glassa non è molto calda, che temperatura è lì? Io normalmente la uso sui 27 gradi. Ho una normale temperatura, io so che ho 27 stopni. Ok, è importante che il dolce è molto congelato. A me non piacciono molte decorazioni, Raffaele. Non c'è qualcosa che il soggetto mi piace da fare molto decorazioni per il dolce, per il torto. Non c'è qualcosa in... Non c'è qualcosa, 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 non c'è qualcosa. Grazie. 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 Grazie.